parlava 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 è per questo che l'ho ucciso non è che parlava si lamentava con la voce da vittima di chi è convinto di meritarsi il meglio del mondo quando questo mondo gli ha dato tanto né si potrebbe imputare la colpa di aver continuato a frequentarlo nonostante mi infastidisse enormemente ma sono stato sempre pervaso dalla speranza che le persone potessero cambiare all'improvviso e poi ci sono cose che non si possono spiegare neanche dopo averle fatte ricordo una strada buia di sera e noi due che la percorrevamo fianco a fianco a partire da quel punto che era il nostro appuntamento quotidiano parlava 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 quando ci incontravamo cioè ogni giorno parlava solo lui mai una volta che mi chiedesse come stessi come andasse la mia vita sentimentale o lavorativa ed io che ero costretto a infilarmi in quei brevi momenti di silenzio nei suoi monologhi per sbirciare un qualcosa di me che cadeva nel nulla o per fargli domande vaghe che cercassero di sviare i suoi discorsi incentrati unicamente su di sé mi pento adesso mi pento di averlo tanto a lungo frequentato e chiedo scusa a me stesso alla mia indole violenta e davvero credetemi non trovo davvero una motivazione valida per non aver interrotto la nostra frequentazione forse volevo punirmi di qualcosa del fatto che avessi perso il lavoro per i continui ritardi o del fatto che avessi cominciato a bere spesso forse del fatto che per questi motivi sommati stessi perdendo anche la ragione e il mio più grande amore sonia che iniziò a definirmi uno straccio umano a questo si aggiunse la perdita improvvisa di mia madre in seguito alla quale iniziai a bere di continuo fatto sta che una sera uscì ubriaco di casa dove ero stato barricato per tutto il giorno e al ritorno da una passeggiata allucinata fui circondato da un gruppo di persone che mi rapinarono dei pochi soldi che avevo con me da allora cominciai ad uscire armato con un cacciavite o quant'altro nascosto in qualche tasca gruppi con sonia che non ne voleva più sapere di me ma smisi di bere non mi restava che una vita più sana da disoccupato e le uscite pomeridiane con la persona di cui vi parlerò quello che non mi era chiaro e avevo sottovalutato era il fatto che i miei nervi non si fossero affatto ripresi da quel circolo di solitudine e disoccupazione quello che non mi perdono è di aver perso completamente la bussola ma non è così che succede? uno pensa ne esco quando voglio e si ritrova solo incazzato nero giù di morale fino all'inverosimile e nemmeno se ne rende conto il mio amico se così lo posso ancora chiamare si lamentava spesso dei lavori che cambiava rapidamente ma che in qualche modo non so come facesse erano sempre impieghi comodi e ben retribuiti aveva una fidanzata Jenny particolarmente carina e molto molto paziente un'ematologa di buona speranza che abitava con lui e sua madre in attesa di trovare un appartamento per conto suo cercava sempre di assecondarlo Jenny di uscire con lui la sera dopo il turno anche se gli occhi gli si chiudevano dal sonno e spesso rinunciava a frequentare le amiche per non lasciarlo solo il weekend nonostante ciò lui si lamentava di continuo ogni scusa era buona per dire che era maltrattato da un capufficio da Jenny stessa che non gli dava le dovute attenzioni tante volte avrei voluto interromperlo magari schiaffeggiarlo dicendogli che le cose non stavano assolutamente come diceva lui era troppo permaloso ed aveva un comportamento da principino del cavolo come dicevo sopra uno che crede di meritarsi tutto senza pensare mai agli altri e alle loro beghe chiedo scusa a me stesso per non averlo mai fatto per averlo ascoltato fino allo sfinimento e molto troppo spesso assecondato quella sera non potevo mancare all'appuntamento serale mi aveva detto mi aveva detto che doveva parlarmi assolutamente e attacco presto a raccontarmi dei suoi primi giorni lavorativi da responsabile delle risorse umane in non ricordo quale azienda parlava 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 io avevo un coltello nella tasca del giubbotto e non facevo che ascoltarlo che altro potevo fare mentre mi raccontava che a lavoro lo stavano mettendo sotto in una maniera che non ti dico che avevano assunto delle persone ma erano state rilevate delle incongruenze contrattuali e indovina chi è il colpevole indovina solo perché sono l'ultimo arrivato e come al solito io capisco che di questi tempi un lavoro fisso è difficile da trovare ma ti rendi conto te mi hanno messo sotto dal primo giorno dal primo dico e subito ad accusarmi di un errore che a me non è assolutamente imputabile senza contare che adesso pretendono pretendono che domani mattina sia io proprio io a riparare all'errore che loro hanno semmai commesso e invece mi costringono a convocare i neoassunti per parlava con voce stridula ve lo giuro non sapevo per quanto tempo avrebbe continuato ma ho provato in tutti i modi a pensare ad altro mentre accarezzavo il coltello congenni feci l'errore di chiedergli e non so se terminai la frase la mia intenzione era di chiedergli congenni come va ma le parole furono arrestate da un secondo flusso di lascia stare o non se ne può più e io sono veramente stufo stanco deluso e non li scrivo perché fosse davvero il suo stato d'animo piuttosto propenso alla pazzia scrivo questi aggettivi perché non faceva che sforzarsi di sciorinarli ma dici tu se ho torto eh è normale che la tua fidanzata si presenti con mezz'ora di ritardo alla cena dell'anniversario con la scusa che deve sostituire una collega in reparto e poi cazzo avvertimi dammi un cenno non sparire nel nulla come se io non esistessi come se fossi non lo so un estraneo o peggio come se io non fossi quello che ti ospita a casa sua sua Jenny la sua ragazza aveva appena prenotato un viaggio a Firenze per entrambi ma lo aveva detto solo a me perché si trattava di un regalo per l'anniversario una sorpresa da quanto avevo avuto modo di vedere si comportava sempre correttamente solo che i turni massacranti a cui era sottoposta in ospedale a volte la facevano essere ritardataria lo sai dove sta cercando casa la signorina dall'altra parte della città vicino all'ospedale con la conseguenza che ci vedremo sempre di meno finché non avrò i soldi per vivere con lei disse fui tentato di rispondergli che adesso che lavorava i soldi per convivere se li aveva e come ma lasciai perdere o fu interrotto la signorina invece di curarsi quella verruca sulla vagina di cui ti ho parlato lo sai cosa fa sta trincerata nel suo reparto e non trova un secondo un secondo dico per salire a quello di dermatologia cioè una rampa di scale spera forse che la verruca scompaia che si bruci da sola per miracolo e poi cazzo nemmeno il gesto dico il gesto di prenotare una visita per mia madre che la ospita a casa sua nostra e che magari non ha 150 euro da dare a un ortopedico per quella spalla che le fa male da tempo ti chiedo tanto io dato che stai 14 ore al giorno in ospedale senza mai rispondermi al telefono non ti viene in mente di scendere al secondo piano interrato aprire la porta di ortopedia e parlare con uno di quei colleghi tanto simpatici di cui ti vanti sempre sono sconcertato guarda senza contare che le verruche sono venute anche a me sulla pancia e chi pensi che me le abbia attaccate adesso ho prenotato una visita da un dermatologo che mi costerà 130 euro e chi ce li ha 130 euro per bruciare quelle pustole che mi ha trasmesso e che non credi mi torneranno se non si deciderà a farsele togliere lasciamo stare ho provato a dirle di licenziarsi dall'ospedale di fare che so il medico di base così avremmo avuto più tempo per stare insieme lei niente e di cosi così te ne potrei raccontare a migliaia lasciamo perdere disse camminando a passo sempre più spedito ed io dietro era calata una nebbia sottile che limitava la vista quando senti un ciao pronunciato da una voce femminile sottile aggraziata ed un altro ciao stridulo quello del mio amico in risposta da quanto tempo mi avvicinai attraversando la coltre di nebbia che mi divideva dai due la ragazza era una delle più belle creature che avessi mai visto le labbra morbide gli occhi grandi e scuri i capelli mori raccolti dietro la nuca in una crocchia che lasciava scoperto un collo esile e bianco tutto all'insieme le conferiva un chiede elegante e sinuoso forte di due seni grandi che gonfiavano il maglione sotto il giubbotto ciao le disse incantato mi sembrava di averla già incontrata forse in qualche sogno o al bar dietro l'angolo forse in una palazzina vicina fece per dirmi qualcosa quando la voce del mio amico proruppe con la consueta petulanza non ti fai mai sentire eh vi garantisco che benizio un flusso di parole vomitate ed emesse a raffica a partire da una breve presentazione della sua vita attuale mi hanno assunto come responsabile delle risorse umane in un'azienda fino alle lamentele che poco prima avevo ascoltato sul presunto terrore contrattuale la ragazza forse di tempra più forte della mia riusciva ad ascoltarlo guardandolo fisso io coi nervi a fior di pelle mi scostai con la scusa di una telefonata da fare nel cercare il cellulare dentro la tasca senti le mie dita stringere forte il manico del coltello adesso sì adesso avevo ben chiaro perché lo avessi portato afferrà il telefono e composi un numero a caso dall'altra parte una voce con cui iniziai a parlare mi segnalò l'inesistenza di quel numero sì ciao eh no non sapevo bene cosa dire a quel personaggio immaginario con cui cercavo di dialogare e che in fin dei conti ero io stavo chiedendo a me stesso come fare per togliermi dagli impicci per sparire dalla città e non vedere più il mio amico almeno per qualche sera confuso decisi di riavvicinarmi ai due e cercare di distruggere la loro conversazione per iniziarne un'altra condotta da me stavolta di nuovo rimasi incantato dalla ragazza che con un movimento rapido degli occhi mi lasciò intendere di essersi accorta del mio ritorno il fatto è che ormai la voce del mio amico mi dava un fastidio che mi solleticava le viscere procurandomi reali conati di vomito dovete allontanarmi nuovamente per non rischiare di impazzire per la paura per la paura di urlare e perché mi accorse che la mano destra aveva afferrato il coltello e l'aveva estratto dalla tasca qualcosa era scattato dentro di me ne ero certo si trattava solo di decidere quando e forse era quello il momento giusto per prendere il mio amico dal collo e conficcare nel suo corpo l'odio che provavo per lui un'automobile inchiodò accostando il marciapiede con un colpo di clacson il guidatore si sporse quel tanto da fare un cenno visibile alla ragazza che si voltò con uno scatto distante qualche metro la intravì di salutare frettolosamente il mio amico e rivolgermi un sorriso che mi fece tremare la vista di quelle morbide labbra che si schiudevano dai denti bianchi e una fossa sulla guancia sinistra Sonia sussurrai tra me la strada mi apparve com'era nell'istante in cui ero uscito di casa allora illuminata dai lampioni e dalle luci dei negozi ancora aperti e anche loro sembravano sorridermi nessuna traccia della nebbia che era carata poco prima davanti ai miei occhi tutto era di nuovo limpido mi illusi che adesso le cose sarebbero andate diversamente e che sarei riuscito a sostenere la conversazione con il mio amico semplicemente concentrandomi su quel sorriso da fiaba su quei denti e quelle gengive che poco prima mi aveva sporto la ragazza e invece mantenni il coltello impugnato solo nascosto nella manica del giubbotto riprendemmo a camminare e per un po' ci fu silenzio fui io a romperlo desideroso di trarre qualcosa di positivo da quel martirio che mi stavo infliggendo chi era la tua amica mi informai ma niente rispose lui improvvisamente pensieroso e meno propenso a parlare sapevo benissimo quando mentiva la mia angoscia profonda mi permetteva ormai di leggergli nel pensiero lessi nella sua espressione corrucciata il dolore per un amore non corrisposto quello di lui e il rifiuto secco della ragazza la mia tanto che non mi trattenne dal chiedergli beffardo vecchia fiamma ma chi quella fu la sua risposta pronta sì rispose infastidito il mio amico non era certo un adone oltre ad essere una delle persone più insopportabili e squallide che si potessero incontrare eppure sembrava tanto sicuro di sé nell'asserire che non so non aveva certo bisogno di una come quella quando aveva Jenny tra le mani ma l'hai vista bene disse sprezzante incendiando definitivamente il mio odio il resto difficoltà a raccontarlo si uccide in un attimo di furia diffidate di chi dice il contrario non si uccide perché si è presa una decisione ben precisa ed iper razionale altrimenti mi sarei slanciato su di lui molto prima di quel momento ricordo che la nebbia calò di nuovo davanti ai miei occhi fittissima adesso tanto che non vidi più il mio amico né fui certo di dove mi trovassi ascoltai la sua voce che da un qualche punto riprendeva la solita tiritera allora ti dicevo mi bastarono quelle poche parole dette con il tono arrogante della vittima per farmi trasformare da persona a bestia assetata senza poterlo vedere mi chiesi di avvicinarsi un attimo credo che urlai perché poco dopo sentii il suo braccio avvicinarsi al mio e stringerlo stai tremando ricordo che mi disse lo afferrai violentamente dal collo e lo braccai per qualche metro fino all'imbocco con una via attraversa dove in un angolo vicino a un portone feci quello che sognavo di fare da tempo ammazzarlo come un maiale e forse gemette o non gemette affatto mentre la lama squarciava la stoffa del giubbotto fino a raggiungere l'epidermide il sottocutaneo il primo organo le viscere attorno a cui avrai indugiato a lungo rivoltando più volte il manico per creare il buco più spesso possibile mi imbrattai di sangue quel liquido oscuro scorreva a fiotti come prima le sue parole vomitate senza ritegno ricordo il suo sguardo supplichevole nel momento in cui la nebbia si diradava di colpo ed un cane abbaiava in lontananza e sono certo che per un attimo i suoi occhi da ebete o pazzo furono attraversati da un lampo di consapevolezza proprio mentre estraevo la lama per affondarla definitivamente nel suo stomaco e premere con tutta la forza del pianto che avevo dentro da troppo tempo visto aggrugniti di rabbia e poi ancora lacrime ed urla disumane le nostre continuai a lungo deluro lui lamentava e si contorceva in preda a spatui interdotti da frasi farfugliate e suppliche strozzate di perché di che ti ho mai fatto o t'acque per sempre o t'acque o t'acque o t'acque o t'acque